Elisabetta Gregoraci ha una relazione con un famoso cantante rap? Finalmente, dopo mesi, parla il diretto interessato, leggi le sue parole. I rumors sul presunto flirt fra Elisabetta Gregoraci e M.R. Rain hanno già fatto il giro del web nei mesi scorsi, ma ora si fanno sempre più insistenti. Per metterli a tacere una volta per tutte, il cantante ha deciso di rilasciare un'intervista esclusiva al magazine del quotidiano Il Fatto Quotidiano. Leggi anche, G.F.Vip, Giulia Dell'Ellis difende i prelemi dalla Gregoraci e Signorini, foto, foto, chiocciola M.R. Rain Official, I.G.M.R. Rain ha mandato un aereo a Elisabetta Gregoraci? Mentre la ex G.F.I.N.A. si trovava ancora nella casa del G.F.Vip, è arrivato per lei un aereo molto speciale che trainava la scritta, moltissimi hanno pensato che questa dedica alla Gregoraci fosse proprio da parte del famoso rapper M.R. Rain, ma è vero? Dopo l'aereo speciale, moltissimi magazine di Gossip hanno voluto insistere su questa pista, ricordiamo che a ottobre, su Novella 2000, si leggeva questo, M.R. Rain parla di Elisabetta Il Giornalista del Fatto Quotidiano ha chiesto al rapper, la risposta di M.R. Rain non si è fatta attendere. Ecco le sue parole, allarme rientrato, quindi. Elisabetta Gregoraci non è felicemente fidanzata con un famoso cantante, il mistero è finalmente risolto. Foto, chiocciola M.R. Rain Official, I.G. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!